Dunque, questo è il portone, il cancello del cimitero principale di Fano. Sono due mesi che va avanti questa storia. Alla sera si chiude e non si apre, alla mattina non si apre. Oggi e domenica c'è tutta la gente che aspetta fuori. Io non lo so. Assessora, allora, questo problema dei cancelli di accessibilità al centrale c'è stato. Come si può risolvere o viare a questo inconveniente? Il problema dei cancelli era un problema, fra le altre cose, di cui comunque abbiamo discusso con gli uffici la settimana scorsa, quando abbiamo fatto il sopralluogo in vari cimiteri della città. Si è ripresentato domenica mattina, va detto che è stato repentinamente risolto, però c'è un problema strutturale che noi dobbiamo andare a spiegare chiaramente alla cittadinanza. Allora, il cancello del centrale è un cancello automatizzato che si apre alle 7 di mattina da solo e si chiude alle 7 di sera da solo. Quindi è molto importante che durante le fasi di apertura e di chiusura questo non venga spinto perché si blocca e il motivo per cui questo accade è perché viene spinto, perché magari ci sono persone che non lo sanno, perché non c'è un cartello appunto, e che lo accompagnano, ma in quel momento il cancello si blocca e quindi gli utenti che arrivano si vedono il cancello chiuso. Quello che può fare il Comune, ci impegniamo in tempi brevissimi, è di andare a mettere un cartello sul cancello, dove si spiega chiaramente di non toccare il cancello nelle fasi di apertura e chiusura e apporremo anche, spero in tempi brevissimi, un numero di telefono dei nostri dipendenti comunali reperibili nel weekend, per cui se c'è un problema di qualsiasi tipo possono chiamare direttamente loro senza chiamare la municipale.